Ma sarebbe stato bello, sì, soprattutto per un orgoglio di squadra, non solo per un fattore personale. Quindi sì, sarebbe stato bello, però ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Ma visto da dietro è stata un'azione che potevamo essere più attenti, sì, ma è proprio per questo che siamo arrabbiati, perché non stiamo regalando quelle soddisfazioni ad una proprietà, allo staff, a noi e soprattutto ai nostri tifosi che vengono sempre numerosi a sostenerci. Quindi siamo arrabbiati perché non stiamo regalando queste soddisfazioni. In questo momento noi stiamo lavorando sette giorni su sette, stiamo dando quello che per noi in questo momento è il 100% e non basta. E quindi dobbiamo lavorare magari otto giorni su otto e dare il 120%. Questo è il momento attuale e quindi dobbiamo lavorare e andare avanti. Non sono dettagli che mi riguardano quanto costa questa squadra, quanto il presidente nostro ha investito. Ha avuto i suoi buoni motivi per farlo, è una persona di grande correttezza e entusiasmo, quindi non entro in questo marito qui, non sono cose di mia competenza. La domanda è la seconda. La domanda, infatti, adesso sto arrivando appunto alla seconda domanda. Io credo che il Potenza è primo in classifica e credo che è giusto che i dirigenti del Potenza festeggino il loro risultato senza parlare del terreno. Perché se fossero anche loro nella situazione in cui siamo noi, probabilmente anche loro si farebbero qualche interrogativo in meno di una squadra che non è la loro. e quindi di conseguenza non mi soffermo molto in quello che dicono le altre persone che non fanno parte di questo mondo, di questo mondo bianco-rosso che è il mondo del terreno calcio. Quindi di conseguenza non mi interessa, faccio i complimenti a loro che sono primi in classifica e basta. Il calcio è questo, è figlio di tanti episodi. E' stato bravo, ha fatto gol e quindi di conseguenza bisogna applaudire con massima unità e massimo rispetto anche gli avversari. Quindi è giusto che in questo momento qui loro siano primi in classifica. Noi, ripeto, ribadisco che è una cosa molto importante che sento mia e penso anche dei miei compagni, che noi lavoreremo e dobbiamo lavorare e dare di più per regalare soddisfazioni che questa città e tutto questo staff che c'è meritano.